Dopo tante polemiche, infiniti emendamenti, respinti e discussioni serrate, alle 22.30 di ieri sera, 29 marzo 2023, il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato la delibera con la quale il Comune cede gratis alla ASL il parco di via 8 Marzo a San Silvestro, dove verrà realizzata la Casa di Comunità. La nuova struttura sanitaria, un poliambulatorio aperto 24 ore su 24, dovrebbe contribuire almeno nelle intenzioni ad alleggerire la situazione del pronto soccorso dell'ospedale. Il Consiglio Comunale, sospeso nella mattinata di ieri, è poi ripreso alle 18 e fino alle 22.30 si è andati avanti a colpi di emendamenti proposti dal centro-sinistra con gli interventi dei consiglieri del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Il tentativo di bloccare il progetto, però, è stato fermato da un maxi-emendamento presentato dalla maggioranza che, di fatto, ha riscritto la delibera inserendo una clausola che impegna la ASL a realizzare un altro parco nelle vicinanze. Un punto questo su cui si era inasprita la contestazione portata avanti dal centro-sinistra. Più volte, infatti, era stata sottolineata l'assenza di un preciso impegno, in tal senso, nella convenzione tra ASL e Comune. risponde il vice-sindaco di Pescara Gianni Santilli. Abbiamo fatto dei sopralloghi anche con la ASL. Il parco sarà realizzato a 80 metri da quello già esistente, quindi con la possibilità di creare un parco ancora più bello e anche più grande. Nella convenzione non c'è questo impegno della ASL, ma si può fare lo stesso? Allora, sulla convenzione non c'è, però abbiamo un accordo con il direttore generale della ASL e con i tecnici che loro, nel momento in cui cominceranno a fare i lavori, la prima cosa da realizzare è il parco a fianco. Quindi ci sarà il trasferimento delle piante, ci sarà il trasferimento dei giochi, di quelle panchine e poi l'amministrazione comunale collaborerà e inserirà altri giochi. Lei ha parlato di accordo, un patto tra gentiluomini oppure qualcosa di formato? È un patto tra gentiluomini, quindi noi abbiamo dato la disponibilità alla ASL di questo terreno e noi confidiamo che loro mantengono la parola per la realizzazione di questo parco. Noi ci teniamo in modo particolare che nasca quella casa di comunità che darà dei servizi e alleggerirà tante problematiche all'interno del nostro ospedale e nello stesso tempo creeremo la possibilità ai cittadini che abitano da quelle parti di avere un bel parco a disposizione.